No, 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 parlo io. Ciao a tutti da Il Salutatore, ecco qui nuovamente mi ritrovo con un grandissimo Alberto Macario. Sì, sì, ma io mi trovo all'auditorium di Roma con un grandissimo a livello planetario, a livello galattico. Si parla del Dalai Lama e il suo QI che è così grande, così straordinario e si è sviluppato nel corso degli anni in una maniera incredibile. Siamo qui per lui, con lui, oggi, domani, sempre. Ciao. Ciao a tutti quanti, questo è un summit importantissimo, il 14esimo dove abbiamo visto tantissimi premi Nobel e direttamente dall'auditorium del Parco della Musica. Ma, ma, un attimo, il 14esimo summit con il 14esimo Dalai Lama. Eh, ragazzi! Un saluto a tutti, ciao! Vista a TG, Saluto del Blog e... Alberto Macario, cosa vi devo dire? Ciao! Ci rivediamo sempre con Cristian che mi perseguita da una vita, ciao! Ciao, grandissimo, grazie! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!